oh stili stai attento che è nuova ma non rovinarmela ma che marcia? quarta? in quarta sei? in terza in seconda no ma che cazzo io di lì non vengo su adesso ma te sei male? in terza in terza io a dire la verità ero venuto a fare la pipì a dire la verità non volevo riprenderti no non c'è problema però l'hai fatta però l'hai fatta bene adesso vediamo come la fa lui questo è il posto normale no la metto qua ma scusa se ho chiuso i cani lascia di chiusi vaffan bagno sono scappati per il parco digli che c'è in giro mia moglie e la cosa te li recuperano loro ma cazzo ma perché li lasciati andare? infatti cosa ha fatto? 5 appena è acceso no no Grazie.